... Martedì 5 maggio, buongiorno e ben ritrovati carissimi telespettatori di Fano TV. Questa è l'informazione di prima mattina, sono le 7.47 in diretta per sfogliare, commentare i giornali in edicola oggi, il Corriere Adriatico e il resto del Carlino che tra poco vedremo e prima però diamo un sguardo al Santo e poi le previsioni del tempo. Il Santo di oggi è San Geroncio, il sole è sorto alle 5.53, tramonterà alle 20.16. Per il tempo la protezione civile delle Marche nel suo bollettino oggi indica cielo sereno poco nuvoloso con venti moderati da sud, mentre per domani invece il tempo rispetto alla grafica che prevede nuvole e sole, in realtà domani mattina prevede pioggia, pioggia sulla costa, infatti non si escludono, almeno qua nella provincia di Peso Urbino, isolati fenomeni in mattinata lungo la costa, temperature in diminuzione anche nei valori massimi. Per quanto riguarda giovedì invece torna il sereno, con temperature in aumento nei valori massimi, ancora un po' di vento a tratti moderati lungo la costa e poi condizioni di tempo stabile anche in questo fine settimana. Guardate come si presentava Baia Flaminia questa mattina grazie al nostro telespettatore da Pesaro che ci ha mandato questo scatto fotografico, se non ricordo male si chiama Alex, questa persona che ci ha inviato questo bello scatto che ci fa vedere una Baia Flaminia completamente deserta questa mattina alle prime ore, alle prime luci dell'alba, cosa che invece non è successa ieri pomeriggio perché ieri, primo giorno della fase 2, è stata la giornata, così l'hanno definita i giornali, della rinascita con tante persone che si sono riversate sulle spiagge, nei parchi, hanno in qualche modo ripreso una sorta di normalità, una vita normale. Qualcuno forse esagerato, qualche piccolo assembramento, qualche d'uno ancora senza mascherina, ecco però diciamo che in linea di massima possiamo dire che i marchigiani si sono comportati bene in questa prima giornata. Allora a leggere i titoli, andiamo subito sulla prima pagina del Corriere Adriatico, edizione di Pesaro, il virus costa 100 euro a dipendente, mascherine, tute, visiere, guanti, altri dispositivi di protezione per gli operai, la lista mensile di quelli che sono i costi da sostenere. Uno studio dell'Istituto Superiore di Sanità rivela un dato shock, nelle Marche almeno 100.000 i contagiati. A centropagine invece la ripartenza, tutti al mare, il sogno però resta quello di poter fare il bagno, ma un pezzo alla volta. Intanto guardate questa fotografia che pubblica il giornale, arriva da San Benedetto al momento della riapertura del cimitero di San Benedetto del Tronto, dopo quasi due mesi di chiusura, guardate c'è una lunga fila davanti all'ingresso del cimitero, addirittura come per entrare sono stati messi dei biglietti segna posto, praticamente come avviene al banco gastronomia di un supermercato. Andiamo sul Carlino, vediamo l'edizione di Pesaro, il titolo, Via Libera e a motociclisti e artigiani, i decreti aprono anche ai fungaioli, alle attività di toilettatura degli animali, porte aperte per San Marino, mentre la fotonotizia è per la felicità contagiosa di tutti questi papà e mamme in giro con passeggini, bambini che ritrovano un po' il sole, la spiaggia, il verde, così inizia la fase 2. In riva al mare, qui siamo vicini alla palla di pomodoro a Pesaro, in riva al mare e nei parchi si respira l'aria della rinascita dopo la lunga quarantena. Prevale la cautela tutti o quasi con la mascherina e alla fine ci scappa una sola multa. Mentre l'allarme dei sindacati premia gli eroi in corsia, ma si rischia la beffa. Decessi di marzo in provincia, i dati dell'Istat, siamo decimi nella classifica del dolore, da noi il 120% in più di mortalità, le marche quarte tra le regioni. Voglia di spiaggia, ma il grande sogno resta il fare il bagno, poca chiarezza nelle norme, in tanti a passeggio tra Viale Trieste e Baia Flaminia, doccia fredda a Vallugola, l'arenile resta sbarrato e non si può accedere. Liberazione dopo la clausura, il lungomare ora si ripopola, qui siamo a Fano, tra tanti sportivi in spiaggia a camminare o correre, ma ciascuno è solo e tiene le distanze. E poi alcune interviste, alcuni commenti presi a caldo dal giornalista, da Osvaldo Scatassi, che ha scritto questo pezzo da Fano. Ho provato gioia, dice per esempio questo giovane Riccardo, che dice ho provato gioia, tanto che quasi mi tremavano le gambe. Oppure Davide, che dice finora ero stato sempre intorno alla mia abitazione, quindi potersi muovere un po' di più, andare più lontano, è stato comunque emozionante. Approfitto dell'ora di pranzo per trovare meno gente in giro, dice invece la pensionata Patrizia e Riccardo, un altro fanese podista, tutti si comportano in modo responsabile rispettando le regole. E questo è quello che conta per non dover ritornare a fare i conti con un altro lockdown che sarebbe la fine. Mira il Fiore invece i parchi. Dalla spiaggia ai parchi, Mira il Fiore a Pesaro finalmente, ma ora riaprite i giochi. Infatti lo ricordiamo, i giochi sono chiusi, anche se i parchi invece no. Prime mamme con i bambini ieri mattina, con una richiesta per il comune. La polizia locale ha presidiato i luoghi dello spaccio per frenare il ritorno degli spacciatori. Nei cimiteri anche il sindaco depone un fiore, il sindaco Matteo Ricci, alla ricerca delle tombe dei defunti morti di Covid. Riaprono dunque i cimiteri, c'è persino chi non sapeva dove era la tomba del proprio caro. Sono state settimane durissime per chi ha perso un congiunto oppure un amico, nessun funerale e soprattutto l'impossibilità di seguire la tumulazione. Ieri hanno riaperto tutti i cimiteri con regole precise. L'affluenza è stata tanta ma molto ordinata, con flusso continuo ma gestibile, come spiega il presidente di Aspes, Luca Pieri. Dal Carlino, sorrisi dietro le mascherine, la rinascita il 4 maggio, passeggiate, sole, serenità, nuova vita dopo la quarantena. In tanti ieri si sono goduti il mare e il verde. Grande cautela perché la fase 2 non deve essere un libera a tutti, ma intanto si ricomincia. E vedete qui le fotografie anche di questo viale, viale Trieste sotto con le bici che tornano a ripopolare anche le ciclabili. Come vedete quasi tutti hanno la mascherina, in realtà non proprio tutti. C'è qualcuno che in realtà qui non ce l'ha, ma comunque è bene, lo ricordiamo, indossarla quando si è fuori. Riabbracciare la mia famiglia, questa è la strada per la felicità, la gioia di Matteo Malaventura, guarito dal coronavirus dopo due mesi. Che cosa farò adesso, dice lui, una passeggiata. Mi piacerebbe vedere il mare. Ed eccola qui, la fotografia insieme a tanta, tutta la famiglia. E poi dalla pagina invece 12 del Corriere Adriatico sempre di Pesaro, l'assalto delle due ruote al mare e al San Bartolo. Decine di biciclette hanno sciamato ieri mattina lungo la pista di viale Trieste, ma sono stati soprattutto i tornanti del colle la meta di ciclisti amatoriali. Ieri infatti si sono rivisti anche i ciclisti amatoriali in sella, in modo solitario, in sella delle loro biciclette. E poi sull'altra pagina invece, ritorno in azienda, a ranghi ridotti, ma pronti alla sfida, dal Presidente di Confindustria Papalini al Segretario della CNA Bordoni, la panoramica di una ripartenza che resta ancora però tutta piena di incognite. Qui parliamo della ripresa dell'economia pesarese, pesarese intendiamo di tutta la provincia di Pesaro Urbino, tra preoccupazioni, voglia di provare a riposizionarsi sui mercati. Insomma, siamo entrati nella fase 2 in provincia di Pesaro Urbino, le attività che possono aprire sono 27.521 rispetto alle 18.871 consentite fino alla settimana prima. In totale le imprese del territorio però sono circa 39.000, quindi ancora ce ne sono tante che devono riaprire. Si torna al lavoro, vediamo con quali aspettative e soprattutto con quale stato d'animo. Per esempio, certamente ci sono le categorie, forse quelle anche più penalizzate, come ristoratori, baristi e quant'altro. Qualche giorno fa, il 29 di aprile, hanno manifestato, con questa iniziativa simbolica delle chiavi, della consegna delle chiavi al sindaco, tutti i ristoratori, molti in gran parte d'Italia. Questa volta, questa volta ci sono i baristi, quelli stagionali per esempio, che hanno deciso di farsi vedere, di protestare, tra virgolette, anche se la parola non piace molto a loro, perché non si tratta di protesta, ma di dire ci siamo anche noi. Quindi domani sera alle ore 18, domani pomeriggio alle 18, tutti i locali che il Corriere Adriatico ha messo qui in elenco, vedete qua, tutti i locali di Pesaro, insomma, in qualche modo, apporranno uno striscione dai 2 ai 9 metri, a seconda dei locali, davanti ai propri esercizi. Con l'hashtag così provateci voi. Come dire, non riusciamo, con tutte queste regole che ci avete imposto, o perlomeno che si sta pensando di imporre a questi esercenti, a questi baristi, così non riusciamo. Si sa per esempio, tanto per il momento che l'apertura è ancora fissata al primo di giugno, anche se nelle Marche si sta tentando, come vedremo, di aprire un po' prima con questi protocolli molto rigidi, ma che comunque danno la possibilità di non attendere il primo di giugno. E poi si sa, per esempio, dice uno di quegli intervistati, che l'orario di apertura, per esempio, non si sa, è incerto, non sappiamo quando possiamo aprire, sappiamo che possiamo chiudere però alle ore 21, ma è un orario questo che non consentirebbe ai locali di ospitare più clienti, scansionando appunto gli orari. Si chiede di tenere aperto, insomma, più ore per poter diluire nel tempo anche la clientela. Ci sono invece, questo è interessante, perché abbiamo subito detto che questa idea di fare un test, soprattutto per quanto riguarda i parrucchieri, gli estetisti, che anche loro, secondo il governo centrale di Roma, dovrebbero aprire il primo di giugno, invece nelle Marche si sta tentando di fare in modo addirittura di ripartire da giovedì 14 maggio, quando potrebbero riaprire saloni da parrucchieri ed estetiste. Ma attenzione, questa è la novità tutta marchigiana, che probabilmente potrebbe anche fare scuola. Nel senso che nei prossimi giorni, se non ricordo male venerdì, se non ricordo male venerdì, sì esatto, venerdì, ci sarà questa sperimentazione con un protocollo ben definito, una sperimentazione sul campo, alla presenza dei funzionari del Servizio Salute della Regione e del Governatore stesso, Luca Ceriscioli. La simulazione avverrà ad Ancona, in un centro estetico e in un salone di parrucchieria, con i dipendenti che faranno da clienti. Si tratta di un protocollo molto rigido nelle misure, che è già stato inviato a Roma, e che potrebbe fare scuola anche nel resto d'Italia. E quindi, insomma, se questa sperimentazione, questo esperimento, insomma, venerdì darà buoni frutti, è molto probabile che nelle marche i parrucchieri, gli estetisti e l'estetista, eccetera, potranno riaprire il 14 di maggio. È pronto, invece, entro domani, quello definitivo, come protocollo, per bar e ristoranti, che all'80% corrisponderà alla bozza elaborata dalla Federazione Italiana Pubblici Esercizi. Tra le altre cose, prevede il distanziamento tra i tavoli, dispenser di gel igienizzanti all'ingresso, dispositivi di protezione per i camerieri e oggetti per il servizio monouso. Queste sono alcune delle indicazioni. Oh, chiaramente, tutto questo a spese del gestore. Quindi potete immaginare, insomma, quanto in questo momento già difficile, insomma, sia complicato poi mettersi anche in regola. Ma comunque, Marzotto invece, ma chi è Marzotto? Matteo Marzotto è il presidente della Dondap di Fossombrone. Presidente, dice, soffreremo tutti. Stiamo pagandosi i fornitori, per l'azienda, la filiera, infatti, è preziosa. Ma per la ricchezza prodotta si tornerà indietro di 20 anni. Di questo ne è convinto. Ha una visione, certamente, da imprenditore, è un imprenditore illuminato, ma vede molto nero il futuro. Aspettiamo per i prossimi 8-9 mesi, dice, che saranno di difficoltà estrema. Ci sarà molta gente che vorrebbe, ma non potrà. Gente che potrebbe, ma non vorrà, perché concentrerà altrove le sue spese. Per almeno un anno soffreremo tutti. Parliamo ovviamente di abbigliamento. E poi dice, ci stiamo, per quanto riguarda la filiera, la filiera dell'azienda, quindi i fornitori, eccetera, eccetera. Ci siamo comportati, dice Marzotto, come ci aspettiamo di essere trattati. Per noi la filiera è preziosa. Se le competenze interne e di filiera spariscono, non si ricreano più. Siamo di fronte ad una catastrofe sociale e non ad una crisi economica, insomma, qualsiasi, ma il sistema non sembra capirlo. Bisogna pensare ad un'economia di crisi diversa da quella tradizionale. Ancora dai giornali, e a questo punto torniamo a parlare del Covid-19 dal punto di vista strettamente sanitario. Perché? Perché c'è questa intenzione da parte del governo di misurare lo stato di salute epidemiologico di ogni regione italiana durante questa transizione del lockdown alla fase di convivenza con il virus, cioè quella che stiamo vivendo adesso. Siamo passati dalla fase 1 alla fase 2. Fase 2 è la fase della convivenza di tutti noi con il virus. Virus che continua ad esserci e ci sarà finché non verrà scoperto appunto il vaccino e non sarà aumentata l'immunità di gregge. E comunque virus che ancora circola. Ebbene, questo, come dire, questo test che farà il governo è interessante perché tenderà a controllare in maniera quasi in tempo reale, questa è la sfida ovviamente, non come è stato fatto all'inizio, come è stato fatto all'inizio quando siamo stati travolti e tutti eravamo impreparati, ma questa volta appena si alza l'asticella, subito parte la squadra, si blocca il paese, paese inteso come città, piccola città oppure quartiere, laddove c'è questo segnale rosso, subito diventa, bisogna circoscrivere, si tenderà a circoscrivere, a bloccare tutto quanto, a farlo diventare zona rossa, eccetera, eccetera. Però ci sono dei parametri, chiaramente, da sforare per diventare di nuovo zona rossa. Così come ci sono dei parametri da tenere sotto controllo per allentare le misure rigide e quindi farle diventare un po' più libere. Allora, quali sono questi parametri? Velocemente, vedete, sono cinque punti che il Corriere questa mattina indica. Intanto il numero dei posti liberi in rianimazione, che non devono essere occupati più di una certa soglia. E in questo senso vale la pena leggere un po' meglio questo articolo che pubblica il giornale questa mattina, perché su questo parametro, che è il primo, vedete in alto, quindi è il più importante, va fatta una precisazione. Ieri nelle Marche, per esempio, erano occupati 40 posti letto di terapia intensiva su circa 170 messi a disposizione per i pazienti Covid nella fase acuta dell'emergenza. Quindi ci sarebbe uno scoperto di circa due terzi che fa stare tranquilli. Però va detto che, rispetto alla fase acuta, molti reparti sono stati chiusi. Quindi immaginiamo che questi 170 posti non siano più disponibili e siano un po' di meno. Ma attenzione, c'è il Covid Hospital, quello che sarà pronto tra una settimana alla Fiera di Civitanova. E qui se ne aggiungeranno altri 80, qui ci saranno 84 posti tra terapia intensiva e semi-intensiva. E dunque ci sarebbe comunque una scorta per fronteggiare eventuali rialzi nei ricoveri. Quindi le Marche, anche con questo ospedale, e secondo questi parametri che dovremo seguire per non finire di nuovo in lockdown, insomma dovrebbero essere abbastanza tranquille da questo punto di vista. Poi al punto 2 c'è il monitoraggio. Il flusso continuo di informazioni, cioè dalle Marche al Ministero. E poi la tracciabilità dei casi. Questo è un altro aspetto importante che varrà, varrà molto. Si devono poter infatti ricostruire i contatti dei positivi. Quindi fare di tutto per risalire e soprattutto mettere laddove è necessario in quarantena tutti coloro che hanno avuto contatti con dei positivi. Cosa che non è mai sempre successa, anzi direi che molti sono sfuggiti da questo punto di vista, dalle maglie dei controlli e della quarantena obbligatoria e quant'altro. Pur essendo stati a contatto con dei positivi. Poi i tamponi, i tamponi rapidi. Non devono passare più di tre giorni tra sintomi e tampone. Qui figuriamoci, sono passati, caro mio, tre giorni, a volte anche tre settimane e forse anche di più. E poi il classico indice di contagio, l'R0, che non deve superare una soglia stabilita. Questi sono i parametri molto interessanti che devono le regioni, tutte le regioni italiane devono osservare e non devono sforare. I primi fiori alle vittime cimitero dolore infinito, questo è l'articolo che troverete sul giornale Carlino, uccisi dal virus e finalmente i parenti possono piangere sulle loro tombe. Un addetto Aspes fa da guida, non sanno nemmeno dove sono stati sepolti. E quindi bisogna che qualcuno indichi con tanto di tabella, di elenco, dove è stato tumulato il proprio caro, la propria persona, insomma cara, che nel momento difficile, terribile dell'emergenza, lo ricordiamo, ma non c'è bisogno. Insomma è stato tolto e messo senza che nessuno potesse sapere, seguire nulla, vedere nulla. È stata una cosa davvero inimmaginabile. Il sindaco rendo immagino ad Andrea Rossi, un saluto ad un 46enne che è morto l'8 di marzo. Le morti bianche dell'epidemia mancano all'appello 400 vittime, titola il Corriere Adriatico. L'Istat confronta i decessi dei 40 giorni clou con le medie precedenti. Più 120% a Pesaro, più 49% ad Ancona e nelle Marche, secondo uno studio commissionato dall'Istituto Superiore di Sanità, sarebbero circa 100.000 i contagi effettivi. Dunque ne mancano all'appello una infinità. Eppure, secondo questo studio, nelle Marche 100.000 sarebbero i contagi effettivi. 2.465 lutti contro un trend di 1.736, ma solo 328 sono attribuiti al Covid-19. Ascoli è l'unica provincia in controtendenza, dove la mortalità è diminuita. Il mistero dei tamponi, nuovo balzo di contagi, ieri 44 positivi su 557, ma il Gores corre ai ripari con il Ministero e parla di ritardi nella refertazione. Il motivo però non viene chiarito. Ieri a leggere in effetti la tabella, quando è arrivata un attimino ci siamo un po' tutti preoccupati, poi soprattutto in questo primo giorno in cui tanta gente era tornata fuori a prendere una boccata d'aria, tanta gente di nuovo per le strade. Però a leggere i dati di ieri del Gores, in effetti un attimino un po' ci siamo tutti domandati che cosa sta succedendo. Perché 44 positivi su 557 tamponi, insomma, sono abbastanza. Ci sarebbe da riparlare di un rialzo nella curva, ma in questo momento non azzardiamo nulla perché, come dicevo, il Gores ha detto no, sono ritardi nella refertazione, quindi immaginiamo che siano dati pregressi, dati del passato che sono stati diffusi soltanto ieri, quindi ufficializzati ieri. Così come sono stati ufficializzati altri tre decessi in regione, due erano di San Costanzo. Poi c'è, a proposito dell'aggressione di cui parlavano i giornali ieri, al pronto soccorso di Fano, ai danni di due dottoresse, c'è una persona che dice, ero lì, c'ero anch'io al pronto soccorso, con mio padre novantenne, ero lì da nove ore. In effetti nove ore al pronto soccorso è davvero tanto, però una lettrice invita a rivedere l'organizzazione. Ci sono tutta una serie di considerazioni che fa questa persona, che era lì, ha visto, ha sentito, ha visto un po' quello che è successo, perché era lì da nove ore, quindi ha visto tutte e due le aggressioni. E dice, appena ho letto questo articolo, insomma, ritengo, ho sentito il dovere di scrivere, ritengo che quello che è successo sia dovuto al fatto che qualcosa nell'organizzazione della gestione del sistema all'interno sia sbagliato. Nella stessa giornata in cui si sono verificati i fatti raccontati dal vostro giornale, mio padre, sofferente di una grave forma di anemia, è stato indirizzato al pronto soccorso di Fano, noi abitiamo a Pesaro, dal medico della Guardia Medica per essere sottoposto a trasfusione urgente. Poi racconta quello che è successo al triage, all'accoglienza, eccetera, eccetera. Quindi vi invito a leggere il giornale. Pronti via già salasso per il Covid. Il Covid-19 costa al mese 100 euro a dipendente. Parlano gli imprenditori che devono mettere in ordine l'azienda, devono regolarizzarla con mascherine, tute, visiere, guanti e altri dispositivi di protezione per gli operai. Quattro imprenditori ci spiegano la spesa per rispettare i protocolli di sicurezza. Per quanto riguarda, per esempio, ecco, la Clabo, parla Pierluigi Bocchini, che dice, Bocchini che dice, l'importo sostenuto solo in un mese per noi è stato di 15 mila euro. Poi Massimo Cecchini, stiamo raddoppiando la capienza dei locali destinati alla mensa. Mentre la Paimar, Paolo Marzeletti, dice, andava messa a disposizione una somma, però a fondo perduto. E poi dalla Indemac Emanuele Palmarini sarà difficile lavorare otto ore con guanti, mascherine e visiere. Da Fano ricominciamo. Ecco le fotografie della gente che si è riversata al mare, c'è anche l'Isippo, la passeggiata, già da ieri mattina, anche nei collegamenti in diretta che abbiamo effettuato sin dalle 7.45, qui all'interno della rassegna stampa, la passeggiata dell'Isippo era stata data per chiusa, ma in realtà era aperta, ma i tempi tecnici poi per mettere gli sbarramenti, insomma, poi alla fine comunque qualcuno ne ha approfittato ed è stato più veloce, quindi ha fatto anche la passeggiata sull'Isippo. Qualcuno ha anche il bagno, ma lo ricordiamo, il bagno è assolutamente vietato, ma qualcuno evidentemente non ha resistito al richiamo dell'acqua, mentre assalto ai cimiteri cittadini, sempre da Fano, dalle 7 del mattino, ecco le regole da seguire. Muniti di mascherina, di guanti, tutti in fila dalle 7 di ieri mattina per far visita alle tombe dei propri cari, tanta attesa per la riapertura di questi otto cimiteri cittadini, chiusi dal 15 di marzo. Andiamo sull'altra pagina di Fano, questa volta il Corriere Adriatico, che però apre con il centro storico pedonalizzato. Anche qui la città si sta un po' dividendo tra chi è favorevole e chi invece è contrario, non solo la politica. La lista in comune è entusiasta, per la Lega invece si tratta di una fuga in avanti, Oasi dice il sindaco vuole accontentare il Movimento 5 Stelle. Ecco come questo rendering dei pentastellati fa vedere come potrebbe essere via Cavour a Fano senza le automobili. Certo, i rendering sono sempre belli, poi dopo all'atto pratico bisogna un po' vedere se questa cosa può funzionare oppure no. Certamente comunque le città senza auto, i centri storici senza auto sono sempre comunque una buona cosa. Forbici si accontenta anche di questa ZTL, gli ambientalisti vogliono essere però consultati. Mascarine obbligatorie in negozio e cimiteri, ripresa l'attività dei centri di raccolta di Aset, ha riaperto anche il parcheggio della caserma. Questo è importante perché era chiuso dal 17 marzo, invece adesso è di nuovo agibile da ieri il parcheggio dell'ex caserma Paolini in Viale Gramsci. L'ha stabilito il centro operativo comunale considerando la riapertura di numerose attività commerciali. L'orario, lo ricordiamo, del parcheggio è sempre 7, alle 7 del mattino l'apertura, alle 21 la chiusura. Ed ecco invece qui sul Carlino l'intervista a Nicola Tanfani, il bagnino dell'Arzilla, che ieri abbiamo intervistato in diretta nel corso del nostro appuntamento appunto ieri mattina. E devo dire che Tanfani ha parlato molto bene, è stato molto eloquente, è stato spiegato perfettamente qual è la situazione, ha descritto in maniera impeccabile la fotografia di quella che è il disagio che sta vivendo tutta la categoria dei bagnini, che sono sospesi, sono sospesi in aria e ancora non sanno dove atterrare, cosa fare, come comportarsi. Con le nuove regole lui dice perdo 300 ombrelloni, l'anno scorso a quest'ora lavoravamo in 25, oggi siamo soltanto in 3 e le spese sono troppo alte. Con le compagnie di giovani per esempio, le compagnie dei ragazzi che solitamente affittano gli ombrelloni e le sedie sdrai, insomma, per tutta la stagione, come faremo? Finirà che andranno nel giardino di un amico, dice Tanfani appunto il bagnino. La questione non è di poco conto, ma bisognerà anche qui attendere, vedere un attimo nei prossimi giorni. 5 Stelle, un assist per Seri, pedonalizziamo il centro storico, Carboni taglia corto, non voterei a favore, i progetti vanno costruiti con calma. Dunque, come vedete, non solo i cittadini, ma anche la politica in primis si divide tra chi è favorevole e chi no. Il capogruppo Mazzanti dice subito una mozione. Critica però la Lega, prima a creare parcheggi e infrastrutture. Ricordiamo che, per esempio, c'è sempre l'area dell'ex distributore Agip, che ancora lì ferma, che sembra lì da una vita, ma che potrebbe a questo punto diventare importante, se vogliamo pedonalizzare tutta Via Cavour, tutto il centro storico, potrebbe diventare importante come parcheggio per le automobili, così come c'è quello dell'ex Caserma Paolini. Ma fare un parcheggio anche lì, insomma, per 20 auto, a poco conto, io farei una bella buca, scaverei un bel parcheggio multipiano sotto, che non si vede niente, e sopra un bel giardino. Ma il parcheggio lo farei sotto. Quindi, se dobbiamo pensare in grande, pensiamo e facciamo qualcosa di bello, qualcosa di funzionale, non che serve per accontentare 20 macchine e rendere brutto un posto, che invece quello dell'ex Agip potrebbe diventare anche carino. Lì, se vogliamo farci... Lì una volta c'era una fontana, ci sono delle vecchie foto nella vecchia Fano, molto carine, molto belle, di quell'area lì. Ecco, si potrebbe ripensare una cosa del genere, però sotto magari fare come il parcheggio in piazza Cavour ad Ancona. Si va sotto e si parcheggia tranquillamente. Non so se le cose si può fare, poi d'altra parte dirlo così è semplice, ma bisogna capire anche se poi è un progetto fattibile sotto terra. Fano una città romana, non so com'è messa sotto, ma insomma penso che si possa fare. Detto questo, andiamo sulla pagina 32 del Corriere Adriatico. Parliamo di questa aggressione a due dottoresse del pronto soccorso. Intanto sta arrivando una denuncia. La CGL chiede tutele per i sanitari, il sindacato sollecita l'installazione di vetri schermati e telecamere, perché questo, tra l'altro, non è l'unico episodio, ma ce ne sono stati anche altri, sia a Fano, ma anche a Pesero. Il sindaco ha espresso solidarietà e vicinanza al direttore del pronto soccorso per la violenza. Non si fa promozione, invece, sotto si parla sulla pagina di Fano questa mattina, di questo slogan che Fano vorrebbe abbinare al Covid. Fano Covid Free. È un'idea che non piace a tutti, è un'idea che non è piaciuto affatto, perché molti vogliono dimenticarsi, dimenticare il più presto possibile questa pandemia, e quindi legare il nome della città di Fano ad un virus, ad un'emergenza sanitaria, insomma, non è un granché. Il PD, tra l'altro, stronca dunque questo slogan, Fano Covid Free, e invita a partire dal lavoro fatto. Nella foto vedete l'assessore al turismo, Etienne Lucarelli. Crediamo che questa nuova amministrazione, dice il Partito Democratico di Fano, in relazione alla promozione del turismo, debba ripartire da ciò che si era iniziato nei precedenti cinque anni, valorizzando il nostro patrimonio e non inseguendo progetti e promesse utopistiche, come Fano libera dal Covid, che nessuno al mondo è in grado di garantire, men che meno Fano. Punto e a capo. E su questo possiamo essere, insomma, un po' tutti quanti d'accordo. Tra l'altro si parla di un'idea grottesca questa di Fano Covid Free, vista la gravità della tragedia collettiva vissuta a Fano con tanta sofferenza, 73 morti, velletaria per l'impegno dichiarato di bonificare la città dal coronavirus, controproducente per l'associazione del toponimo ad un termine negativo, qual è il nome della malattia, appunto. E controverso anche per gli stessi operatori economici, che temono misure di distanziamento e protezione più restrittive di quelle che imporrà il governo. Perché poi dopo bisogna davvero garantire che Fano sia Covid Free, perché tu non puoi promuovere una città e dire, assicurare a un milanese che Fano è Covid Free e poi venire qua e rischiare di prendersi e di contagiarsi. Cioè, quindi è chiaro che nel momento in cui io non accetto un protocollo per far diventare la città Fano assolutamente Covid Free, è facile che questo protocollo, rispetto agli altri, sia ancora più rigido. Quindi attenzione, prima di... Capito? Cioè, vanno valutate bene tutte queste cose. Ora, siamo in chiusura. Statale 16, il test per l'ardizio. Vogliamo riaprire tra cinque settimane. L'assessore Belloni di Pesaro spera di velocizzare i lavori al cavalcavia per contenere disagi al traffico tra Fano e Pesaro. Siccome c'è il sottopasso che va sistemato perché, insomma, non era messo tanto bene, la strada che passa sopra è la statale 16, come vedete in queste fotografie, questa statale è chiusa e quindi, insomma, sicuramente, pur non essendoci ancora tutto quel traffico che in tempi normali ci sarebbe stato, comunque, insomma, è un test che va fatto per scongiurare che non ci siano ingorghi. Parliamo di questi lupi. Questo è un altro lupo soccorso nel pomeriggio di domenica nella rencia di Valentino Rossi. Lacci, trappola micidiale per i lupi, abbiamo già presentato denuncia. Il responsabile del Crasse Giuliani allarmato per il doppio episodio di bracconaggio. A Urbino, rieperti cimiteri e parchi, possibili mercati alimentari, resta il divieto di assembramento e l'obbligo del mantenimento della distanza. Sempre da Urbino, questa volta dal Carlino, in città, la fase 2 è iniziata, senza però infrazioni, parchi, cimiteri e mercati sono stati riaperti, nonostante le ferre limitazioni, ma i cittadini si sono comportati bene. Ecco tutte le nuove regole che potrete trovare sul giornale. I Carabinieri lanciano Urbino in un video, un messaggio di speranza dall'arma dei Carabinieri per la ripartenza, realizzato da un Urbinate con la sinergia di tante istituzioni. Ponte di Via Lamarca al via la demolizione, la ditta eliminerà il vecchio impalcato, da ieri la statale è chiusa in ambedue i sensi, il cavalca ferrovia, da giovedì si passa a sole due corsie. Una donna che tenta di uccidersi gettandosi dal balcone, un volo di 5 metri, fratture plurime, mai salva, è successo in via Mastro Giorgio, la donna vive con il marito, una 68enne di Pesaro che ieri intorno alle 4 e mezzo del pomeriggio ha tentato di uccidersi gettandosi dal balcone. Questa donna poverina ha qualche problema psichiatrico. Chiudiamo con questa immagine con la quale abbiamo aperto, parliamo di Baia Flaminia a Pesaro, un nostro telespettatore ci ha inviato questa fotografia, immaginiamo però già alle 8.23 di questo giorno questa immagine già un po' diversa con persone che stanno magari passeggiando e stanno prendendo un po' d'aria, stanno facendo un po' di movimento, così come sarà un po' su tutto il litorale adriatico in questa nuova giornata, in questa nuova fase 2 che ci apprestiamo a vivere. Oggi pomeriggio, stasera invece, c'è il telegiornale alle 20.30. Occhio alla notizia, non vi ho parlato all'inizio della rassegna stampa della scossa di terremoto che i nostri amici di Fermo, di Amandola, hanno sentito questa mattina, sono stati svegliati alle 4.05 da una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 a 10 km di profondità, quindi si è sentita molto bene, l'hanno sentita molto bene, però mi risulta che non ci sia stato nessun problema se non appunto il risveglio un po' brusco e il ricordo, ahimè, delle scosse di qualche tempo fa. Ma anche su questo vi aggiorneremo. Grazie per averci seguito, tra poco invece la messa in diretta dalla Santa Casa di Loreto. Arrivederci. Grazie per aver guardato il video.